Trovata morta in un appartamento del progetto case di Paiare di Sassa, è la sorte che è toccata ad una donna di 75 anni. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, il decesso risale a qualche giorno fa. I parenti, non sentendola da alcuni giorni, hanno allertato la polizia di Stato, che ha forzato la porta dell'appartamento, trovandola senza vita. Si tratterebbe, secondo sempre le prime ricostruzioni dei fatti, di morte naturale, in quanto l'appartamento è stato trovato in ordine e sul corpo nessun segno di violenza. Sarà l'autopsia ora a chiarire le cause del decesso. Il corpo della donna è stato restituito anche ai familiari per le esequie.